Ciao a tutti, allora questo Get Ready non era in programma Non era in programma perché ho tante cose da fare perché sabato prendo l'aereo per andare a casa a Palermo e quindi non era in programma Però è un Get Ready che ha un motivo non è un Get Ready tanto per chiacchierare così senza arte né parte Perdonatemi la luce ma sono in sala e ho le finestre socchiuse perché fa molto caldo quindi ho acceso, per non accendere il clima perché il climatizzatore come sapete non fa bene ho semplicemente accostato le finestre quindi la luce non sarà granché ma la luce non è mai granché nei miei video ma chi se ne frega, nel senso io non faccio tutorial Dopo questa premessa perché faccio questo video? Allora, questo video nasce per un motivo molto semplice intanto metto il primer quello per i pori di al verde questo video nasce semplicemente per un motivo perché ieri ho visto il video di una donna che io seguo da molti anni saranno minimo una decina d'anni che la seguo, più o meno Questa donna è una donna adulta quindi ha più di 50 anni lei tra l'altro non fa mistero della sua età anche perché non c'è motivo come non lo faccio io la frase l'età non si chiede a una donna è una cavolata dicevo questa donna è Lucy Medici è una donna che vive in America che credo abbia origini italiane è una donna che vive negli Stati Uniti comunque vive a New York tra l'altro lei ha sempre fatto dei video straordinariamente belli molto intensi molto di contenuto non sono quei video stupidi che potete trovare in rete assolutamente fa dei video bellissimi di contenuto insomma è una donna di una certa cultura anche bene dopo tanti anni che la seguo dopo tutti i video che ho visto io per la prima volta ieri ho visto una donna distrutta una donna in lacrime davanti a una videocamera non so se è il suo telefono non so comunque davanti a una videocamera una donna in lacrime esasperata dai commenti che riceve di una cattiveria inaudita perché sotto i suoi video potete trovare veramente la gente i peggiori sfogatori delle frustrazioni di gente malata che abbiate mai visto Lucy non merita assolutamente quello che le sta succedendo non merita che le venga fatto body shaming perché è molto magra ieri ha dovuto spiegare il perché è molto magra io non l'avrei fatto ma non perché lei si debba vergognare assolutamente no lei non lo doveva fare non doveva spiegare perché non deve spiegazioni a gente malata non deve spiegazioni a gente senza cervello che la insulta perché è magra perché secondo loro è vecchia potrebbe essere vostra madre ragazzini frustrati di merda potrebbe essere vostra madre e voi le dite brutta vecchia muori ma come vi permettete ma chi siete ma non vi vergognate non avete un minimo di dignità addirittura lei ha scritto che ha scritto ha detto che le è arrivato un pacco tra le lacrime non si capiva cosa diceva cosa cosa conteneva questo pacco comunque le è arrivato un pacco con delle minacce delle cose gravi gravi ma lo conoscete il limite youtube non è la vita reale ma dietro allo schermo ci sono delle persone delle persone lo conoscete il limite evidentemente no io ho provato tanta rabbia tanto dolore a vedere Lucy in quello stato veramente ma perché non solo perché la conosco guardo i suoi video la conosco da tanti anni ma perché è una persona forse voi vi dimenticate che dietro questo schermo non ci sono bot ci sono persone e tutto lo schifo che gli vomitate addosso tutto l'odio tutto lo veramente lo schifo che vomitate addosso dovete capire che è rivolto a delle persone persone dietro questo schermo quello che voi vedete percepite come schermo noi siamo fatti di carne e sangue mi ci metto anch'io perché anch'io faccio video su youtube ma per fortuna non sono mai arrivata a questi livelli di hating per fortuna ora Lucy ha deciso di chiudere il canale e non è la prima volta non è la prima volta che le succede ora voi capite bene che noi possiamo farci scivolare le cose una, due, tre volte alla quarta però non ce la possiamo fare a tenere a bada tutto questo odio ma poi odio ma perché? cosa vi ha fatto di male quella povera donna? cioè ha dovuto spiegare particolari della sua vita perché noi teniamo la nostra vita privata privata? perché dietro questi schermi c'è gente perfetta gente buona gente che ci segue ci vuole bene ci è affezionata ma gente malata anche che gode delle disgrazie altrui quindi la nostra vita privata rimane privata ma questo per esempio io lo faccio con tutto tutti i miei social nonostante su facebook per esempio io ho soltanto amici che conosco personalmente ma la mia vita privata rimane privata qui su youtube mi avete sentito parlare molto poco della mia vita privata perché la mia vita privata per me è privata ma sentire una donna che deve spiegare determinate cose della sua vita privata che non ripeterò qui perché mi sembra corretto che la sua vita lei ha scelto di parlarne e rimanga nel suo video ha dovuto dare delle spiegazioni personali di dolori personali per cosa datevi una regolata datevi una regolata perché voi non siete nessuno nessuno un sito nudo un mescato con niente si direbbe giù in sicilia da me ve lo dico così in siciliano quindi io il mio appoggio va a Lucy che abbraccio perché è una persona meravigliosa e non merita tutto quello che le sta succedendo anche perché nessuno lo merita nemmeno la peggiore persona sulla faccia della terra merita quello che sta passando lei nessuno lo merita e Youtube Italia intero dovrebbe rivoltarsi contro queste cose contro queste cose ora io mi auguro che questo video faccia il giro della rete personalmente non sto parlando ne parlerò ancora perché Lucy deve ricevere l'appoggio di Youtube Italia ed è importante che riceva l'appoggio di Youtube Italia e Youtube come come network dovrebbe prendere dei seri provvedimenti contro questa gente qua che paghino veramente quando fanno lasciano questo tipo di messaggi perché è grave che una persona auguri la morte a un'altra persona via Youtube è gravissimo e il network dovrebbe prendere provvedimenti ma non provvedimenti così provvedimenti seri perché noi non siamo lo sfocatorio delle vostre frustrazioni e mi ci metto pure io perché anche io faccio video su Youtube e cancello dei commenti che lasciamo perdere che lasciamo perdere comunque mando un bacione enorme a Lucy e le dico non chiudere il canale non dargliela vinta perché non devono vincere loro devi vincere tu allora scusatemi sono molto arrabbiata molto arrabbiata arrabbiatissima perché non è non è non è non è umano non è umano non è logico allora ho rimesso il primer questo qua della Revolution perché ho capito che questo fondotinta senza un minimo di crema o primer non va perché nonostante sia idratante è anche possibile che in questo momento io abbia la pelle talmente sminchiata come dico io che comunque il colore non è per niente neutro ha un sottotono rosato che non mi piace non è per niente neutro però ormai ormai è andata così e quindi non certo butto il fondotinta perché il sottotono ma il sottotono non è mi sa che è sbagliato per tutti perché notavo che non è non sono la prima a dire che i sottotoni neutri in realtà di neutro non hanno una fava cioè aumento faccio un secondo strato qui dove ho le macchie perché full cover e giumpar de palle cioè non è full cover è già per niente quindi cioè c'è scritto medium to full quindi significa che con è stratificabile con due passate si può ottenere la copertura che si desidera ma in realtà neanche con due passate riesce a ottenere una copertura o meglio ho visto che molti lo applicano col pennello ma io col pennello non mi ci trovo proprio perché fa strisce perché fa mi ci trovo proprio completamente col pennello quindi allora dicevo sabato ho l'aereo da Milano Molpenza perché l'inate è chiuso ovviamente mi devono complicare la vita perché altrimenti non allora dicevo con l'idratante sotto anche nelle zone che io ho più secche è meglio molto meglio l'altra volta avevo messo solo il primer quello di il primer fallimentare come lo chiamo io di di Kiko è per carità vedete non so se non è male questo fondotinta non è il massimo però non è male non so se riuscite non è male però un po' lo fisso perché perché è un po' lo fisso comunque dicevo io ieri ho visto questo video e sono rimasta talmente male perché non se lo merita seriamente non se lo merita non si merita tutto questo ma nessuno se lo merita attenzione non è che ho detto che ci sono persone che se lo merita o ne altre che non se lo merita non se lo merita nessuno però dico magari c'è chi le affronta a volte c'è anche lei suppongo che prima di arrivare a questo limite l'ha affrontato la cosa con il sorriso ma c'è un momento in cui non riesci più a sorridere perché si travalica uso il correttore di pupa perché quello della revolution è assolutamente bocciato lo sto portando a palermo perché magari riesce a usarlo mia sorella che ha la zona meno segnata di me non mia mamma no perché è troppo chiaro per mia mamma questo lo scaldo con le dita perché la spugnetta porta via troppo prodotto e questo è molto sottile anche se se non lo fissi si infila nelle pieghe questo qua della pupa meno di altri però non è full coverage prima di tutto però almeno è sottile non mi fa strato e non mi segna troppo la zona perché il segreto per il correttore ve lo dico sempre di chi se hai la zona segnata è non metterne troppo è che sia sottile questo è molto sottile ed è waterproof quindi in teoria dovrebbe asciugarsi e non andare nelle pieghe in teoria in pratica non tanto però è così comunque dicevo quindi io ieri ho visto questo video ci sono rimasta talmente male che veramente mi dispiace tanto per lei perché non se lo merita allora provo a mettere questa è un ombretto liquido di NYX che io avevo comprato pensando che fosse perché in effetti questo colore ricorda più una tinta no perché vi spiego se non metto un minimo di colore mi si vede lo stacco mi si vede il fondo tinta che si infila nella piega superiore mi fa schifo sinceramente che anche se lo fisso con la cipra mi succede quindi non posso assolutamente non mettere nulla ora spero che non si infili l'ombretto nella piega perché ma questo questo fenomeno del body shaming non è soltanto è come vi ho detto anche l'altra volta scusate non è purtroppo non è soltanto youtube o gli haters sono tutti tutti anche quella quel programma televisivo ha fatto body shaming a molte persone cioè a youtuber altra gente è un non so è una moda forse sto body shaming che vi devo dire perché il body shaming non è soltanto se dite a una persona che è grassa anche se dite a una persona se è anoressica cioè io quando pesavo 34 kg mi sono sentita dire sempre ma se è anoressica ma sai cos'è l'anoressia cioè non è che se una persona è molto magra è anoressica ma sai cos'è l'anoressia l'anoressia è una malattia mentale che ti fa vedere il cibo come un nemico c'è come se ci fosse all'interno del tuo cervello una voce che ti dice non mangiare non mangiare non mangiare con tale calorie cioè non so se avete presente non potete dire a una persona molto magra se è anoressica perché l'anoressia è una malattia mentale io pesavo 35 kg ma non pesavo 35 kg perché non mangiavo perché mi contavo le calorie mangiavo come un bufalo in ferocito ma avevo un metabolismo talmente veloce che bruciava più di quello che consumavo perché perché probabilmente in quel momento non lo so in quel momento la mia vita era così adesso peso 47 kg perché il mio metabolismo ha rallentato quindi sono tornata a un peso normale certo ero sotto peso quando pesavo 35 kg ero molto magra ma non stavo male per quella magrezza cioè non svenivo perché ero magra così basta non potete dire a una persona sei magra sei anoressica perché non è così cioè l'anoressia è una malattia mentale quindi anche una persona magra può subire body shaming io ne ho subito centinaia di body shaming di gente che mi faceva sentire in colpa perché ero magra non ho parole ma anche persone che conoscevo ne anche persone che conoscevo che erano in carne e mi facevano notare che ero troppo magra ok va bene sono troppo magra non ci posso far nulla sono persino andata vedete a che punti sono arrivata io ma perché perché comunque ero stanca di sentire sono andata persino da un nutrizionista che mi ha fatto una dieta di 1500 calorie a pasto perché mi sentivo troppo magra ero stanca di sentirmi dire dalla gente che ero troppo magra e io ho seguito una dieta ipercalorica per un anno e ho messo un chilo e mezzo in un anno perché evidentemente il mio fisico il mio metabolismo in quel momento non riusciva a farmi accumulare peso ma io non stavo ma le stavo bene però siccome erano arrivati talmente tanto rompermi le palle da dirmi devi ingrassare devi ingrassare devi ingrassare che io mi sono messa lì e mi sono fatta fare una dieta da una nutrizionista vedete voi vedete voi a che livello portate le persone e sì che io sono sempre stata una da adulta ecco non da adolescente no perché da adolescente è una persona molto insicura però sono sempre stata una persona molto sicura di me facendo un po' di infracigliare giusto per non sembrare un pesce perché in questo momento sembro un pesce ora questo video io lo sto facendo per Lucy per essere per essere solidale con lei però è per essere solidale anche con tutte quelle persone che subiscono body shaming per l'età per il peso per quello che volete perché anche per l'età è body shaming perché tu vai a dire a una persona che è troppo vecchia per stare su youtube ma tu chi sei? chi sei? il principe del par de palle ma chi sei? cioè non sei nessuno per dire a una persona dove deve stare cosa deve fare io spero che Lucy ci ripensi e non chiuda il canale perché sarebbe darla vinta a questa gente qua sarebbe darla vinta a questa gente qua che è gente di merda fondamentalmente io per esempio seguo tanti canali di dissing tanti canali di flame però che si faccia flame tra una persona e un'altra darmi pari cioè significa tu ti incazzi con uno quell'altro si incazza con te ti fai dispettucci ok tra youtuber succede spesso come me Alice Fiorini per esempio io non è che la volevo attaccare perché mi sta sul culo cioè io non la conosco nemmeno con ella ho detto semplicemente una cosa ho fatto un appunto lei mi ha risposto le ho fatto un video contro basta fine lì finita lì non è che io vado a rompere le coglioni sotto ogni suo video assolutamente perché perché ognuno è libero di poi tra l'altro io non ho fatto hating io semplicemente ho detto o gli ho dato dei consigli ho detto delle mie cose un mio parere espresso in maniera educata è assolutamente lecita ma sta gente qua però non fa commenti costruttivi o critiche costruttive insulta insulta perché hanno probabilmente anzi sicuramente delle vite talmente misere che hanno bisogno di sentirsi importanti cercando di buttare merda sulla vita altrui ma non funziona quando spegnete il vostro youtube il vostro telefono il vostro instagram quello che volete avete una vita misera non funziona perché infine quello che siete resta resta e ricordatevi che il karma è potente io lo dico sempre ricordatevi che il karma è potente non ho altro da dire bene io spero che questo video sia di supporto a chi deve essere di supporto quindi all'usì e a tutte le persone che hanno subito e subiranno perché lo subiranno perché non è che io voglio pensare che le cose cambieranno ma di che body shaming sul loro aspetto fisico sulla magrezza la grassezza quello che è e sull'età su quello perché anche a me mi si può dire tu hai 41 anni perché ti vesti me l'hanno detto me l'hanno detto ma tu hai 41 anni ma perché non ti vesti come una donna della tua età perché ti colori i capelli di fucsia perché usi le maglie con i pupazzi ma perché non ti fai i cazzi tuoi ma perché fatti una vagorata di cazzi tuoi sta tinta di chico dell'anno scorso sembrerebbe ancora buona allora giusto per togliere il bianco delle labbra di fondotinta che sembro mamma guardate qua devo fissare un minimo c'è niente da fare i correttori se non li fissi anche se alcuni non lo fanno mamma mia deserto del Sahara e ovviamente quando fisso non va più nelle pieghe ma succede questo succede questo che la zona ovviamente fissata con la cipria si secca ma preferisco ripeto questo piuttosto che avere cioè non so se vedete è terrificante cioè non so se vedete mi ha sotto lì questo questo no questo fondotinta pensavo che potesse essere la soluzione ma o almeno fissato con la cipria non va cioè mi ha sottolineato anche rughe che non ho ne sono vecchia si sono vecchia bene vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao